Questo video riguarda i migliori 3 aspirapolvere ciclonico. Il vincitore della qualità è il Tineco A11 Master. Il motore digitale da 450W dell'aspirapolvere senza fili Tineco A11 Master ha potenza di aspirazione di 120W per una pulizia profonda su ogni superficie, come pavimenti, tappeti, moquette. Grazie alle due batterie a litio da 2000A2, smontabili e ricaricabili, che forniscono fino a 50 minuti di uso in interrotto, ideale per la pulizia di tutta la casa dentro e fuori. L'aspirapolvere A11 Master include due ampie spazzole motorizzate. Rimuovi il braccio per usarlo come aspirabriciole maneggevole per fessure, angoli e divani. L'innovativo filtro EPA a 4 stadi rimuove il 99,97% di allergeni, di dimensioni fino a 0,3 micron. L'aspirazione ciclonica non rumorosa renderà le vostre pulizie di casa un gioco da ragazzi. Include 9 accessori che si attaccano e staccano con un semplice click. Semplice da smontare e pulire, per garantire la massima efficienza e durata nel tempo. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è l'Ultenic U11 Pro. Ultenic U11 Pro motore dell'aspirapolvere senza fili produce una forte potenza di aspirazione fino a 2500 PA in modalità max che è meglio per i detriti e lo sporco profondamente incorporato. Ultenic Scopa Elettrica U11 Pro è dotato di un pannello di controllo tattile che mostra la modalità di pulizia e il livello della batteria, in modo da poter passare facilmente tra le modalità di alimentazione a portata di mano. Con tecnologia di carica rapida, una ricarica completa richiede solo 2.5 trattino 3 ore. Autonomia fino a 50 minuti con modalità standard. La batteria è removibile, il che le rende facile metterlo in carica separatamente. Può essere utilizzato con supporto di ricarica aggiuntivo. A volte i normali aspirapolvere possono rilasciare aria sporca nella tua casa. L'aspirapolvere senza fili U11 Pro ha un sistema di filtrazione a 4 stadi che cattura il 99% degli allergeni come polline e muffa, porta una vita sana e pulita per voi. Il vincitore del premio è l'Over H-Free 100. Consente di rimuovere capelli e polvere dal rullo, avendo così una migliore pulizia e manutenzione di H-Free 100. Basta preme due volte la leva per attivare la modalità di aspirazione continua e pulire facilmente, senza bisogno di premere il pulsante con off, per tutto il tempo. La spazzola è dotata di luci LED per illuminare gli angoli bui e incrementare la visibilità durante la pulizia sotto i mobili, per non lasciare a terra nessun granello di polvere. Sentiti libero di ricaricare il tuo H-Free 100 dove e quando vuoi, grazie alla batteria removibile da 22V. Devi rispondere al telefono durante l'aspirazione. Fatto! H-Free 100 può essere temporaneamente asterisco parcheggiato in posizione verticale, se necessario, per consentire di gestire comodamente attività rapide. Il grande contenitore da 0,9L facilita la manutenzione di H-Free 100. Infatti, aiuta a ridurre la frequenza dello svuotamento ed è utile per evitare il contatto diretto con polvere e allergeni. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.